Punto interrogativo Maria Elena Boschi a cena con i suoceri, aria delle foto esclusive del king dei paparazzi Rino Barillari. Per Maria Elena Boschi Galeotta funa una cena, e presto quel tantan che riecheggia al suono della parola matrimonio, e che da mesi rimbalza da social a social, potrebbe divenire realtà. Già, perché a quella cena al ristorante del Bolognese, in Piazza del Popolo, a Roma. Con la deputata c'erano i, futuri, suoceri, mamma e papà del fidanzato Giulio Berruti. E a testimoniarlo ci ha pensato il king dei paparazzi Rino Barillari, che ha immortalato una sorridente Boschi con i futuri mamma e papà. La data del matrimonio di Maria Elena Boschi con Giulio Berruti. Questo Rino Barillari non è riuscito a carpirlo né alla Boschi né ai futuri suoceri. Ma quella cena suona come una promessa che ormai si sta per concretizzare. A dirla tutta, non è la prima volta che Maria Elena Boschi sia stata vista con i genitori di Giulio Berruti. L'occasione poche settimane fa fu la cena, sempre in un ristorante del centro di Roma, per festeggiare il compleanno del promesso sposo. Con tanto di passeggiata per le vie della capitale, poi, con dita di baci appassionati a favore dei click dei fotografi. Se la data delle nozze ancora non è stata resa pubblica, sulla location qualche indizio trapela, Toscana. Il sogno e il desiderio, di diventare mamma, NDR, c'è da tanto tempo, da sempre, disse Maria Elena Boschi a Verissimo intervistata da Silvia Toffannin. E' chiaro che accanto a Giulio viene ancora più naturale pensarci. Ogni tanto ne parliamo. Ci piacerebbe. Vediamo. E ora, dopo l'ultima cena con i, futuri, suoceri, il grande passo potrebbe essere davvero vicino. Tutto mai, tot mai, sub money, sub, 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 sub. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu spun minciun, sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Stii, nimic nu mai e la fel, pupilaria s-a maturizat sever. S-a luvit pana acum, de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti-puri de caracter. Ti vado com muito